Comandante, la zona che lei dirige è una zona estremamente interessante da un punto di vista portuale. Quali sono state nella sua carriera a comando di questa zona, le questioni risolte, quelle da risolvere più interessanti? Diciamo che la direzione marittima di Palermo, che abbraccia un territorio molto vasto che va da Gela fino a Cefalù, presenta delle peculiarità diverse a seconda delle zone. Indubbiamente le portualità particolari e articolate si configurano soprattutto su Palermo, Trapani, Gela e Porta Empedocle. Gli altri sono porti, diciamo così, fra virgolette, minori che hanno delle importanze per quanto riguarda lo sviluppo turistico dati porto ma nella complessità, diciamo, grazie all'opera dei vari comandanti e dalla regia messa in essere della direzione marittima, il nostro programma che abbraccia tutto il territorio ci può conturre verso soluzioni di problemi che sono quelli soprattutto del miglioramento infrastrutturale dei vari porti. Stiamo lavorando in questo senso, abbiamo fatto un documento programmatico che analizza tutte queste problematiche ma che abbraccia anche settori diversi da quello che è l'aspetto solo, diciamo così, infrastrutturale portuale. I nostri compiti sono diversi, quindi ci lanciamo verso forme di tutela dell'ambiente, la pesca, tutto il settore amministrativo per quanto riguarda la gestione delle gente dei mari. E poi siamo in una terra dove il problema dei migranti è importantissimo. Quale idea si è fatto per poter quantomeno arginare se non risolvere il problema degli sbarchi, per farlo in sicurezza? I nostri equipaggi hanno una capacità tecnica di intervento e di professionalità elevatissima. I nostri mezzi sono disponibili perché è un nostro dovere a 24 ore su 24 ore e quindi fin quando noi altri siamo chiamati a salvare queste persone siamo sempre sul pezzo e faremo questo lavoro, come dicevo io, con tanta professionalità ma soprattutto con grande cuore.